La Chiesa è vicina a quanti attendono una rapida verifica della propria situazione matrimoniale, venendo incontro ad un loro legittimo desiderio di giustizia e sanando le ferite di chi ha vissuto il fallimento coniugale. Lo ha detto il Papa incontrando in Vaticano i partecipanti ad un corso di formazione della rota romana sulle norme del nuovo processo breve, voluto per rendere più agili ed efficaci le procedure per la dichiarazione di nullità matrimoniale con l'abolizione della doppia sentenza conforme e la centralità del ruolo del Vescovo diocesano. È importante che la nuova normativa sia recepita e approfondita nel merito e nello spirito, specialmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie. Per tanta gente che ha vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o meno del matrimonio rappresenta un'importante possibilità e queste persone vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada. Papa Francesco ha ricordato che la Chiesa è madre e vuole mostrare a tutti il volto di Dio fedele al suo amore misericordioso. Riguardo ai separati che vivono una nuova unione ha aggiunto ciò che più ci sta a cuore è la loro partecipazione alla comunità ecclesiale. Infine il Pontefice ha chiesto di guardare con ammirazione tutte quelle coppie che anche in situazioni difficili, che mirano a distruggere la famiglia, rimangono fedeli al vincolo sacramentale. Sono testimoni di fedeltà, ha detto, esempi da imitare.